Il brevetto Reflex System è un sistema di cuscinetti che sono presenti nella suola, che assorbono e rilasciano energia in punti differenti del piede secondo i principi della riflessiologia plantare. Trailflex è la terza generazione di Reflex che parte con Reflex Basic, Runflex e Trailflex. Trailflex è questa prima calzatura di trail running fatta dalla nostra azienda che ha anche un approccio tecnico sportivo. Ha il beneficio di avere un effetto anti-shock superiore a qualsiasi altra scarpa e avere un effetto riflessiologico plantare, quindi un benefit per il corpo, quindi una healthy shoes. La scarpa che stiamo presentando, Trailflex, ha una sigla che è VTR15, che è una sigla che richiama il percorso E15, che è un percorso che porta sulla vetta del monte Vettore. Il monte Vettore è il monte più alto della catena dei Monti Sibillini, e questa scelta non è casuale perché Reflexora è un'azienda marchigiana e siamo veramente predisposti a sponsorizzare il territorio. Non a caso per il lancio ufficiale che avverrà probabilmente in primavera 2024 organizzeremo proprio una gara di trail in quei territori bellissimi che sono l'appennino marchigiano. Grazie.